Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornati in questa nuova stagione di Bevo dai miei studenti Perché Bevo dai miei studenti? Perché a ottobre parte il Master Homemade Pro Quindi vi devo convincere a iscrivervi E ho qui Emanuele con il cognome impronunciabile perché mi si ingavinano sempre lettere Quindi tra Aurosi, Aurioso, Aurosto, la fine se l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatto lì Emanuele si è diplomato, possiamo dire diplomato Diplomato si può dire O laureato Laureato, Emanuele si è laureato Si è laureato al Master Homemade Pro A pieni voti, in realtà non lo so Però sicuramente Sicuramente a pieni voti Ed è qui in laboratorio a presentarci il drink che ha pensato per questa presentazione, per questo video Per raccontare anche un po' il Master Homemade Pro Però lascio la parola a Emanuele, io farò il barback Lo interrompo solo se dice qualche stupidaggine O per fare qualche domanda magari per spiegare meglio quello che ha fatto Quindi Emanuele raccontaci un po' il tuo drink Niente, in realtà è un drink semplicissimo che parte dall'abbinamento classico della Pignacolada Ananas Cocco ed era stato pensato in carta drink al bar dove lavoro a Chiavari Chiavari, provincia di Genova tra Genova e la Spezia più o meno E niente, abbiamo pensato questo drink al bar Un po' tra virgolette come alternativa alla Pignacolada Visto che l'estate va tantissimo Allora abbiamo pensato un abbinamento Ananas Cocco un po' diverso E il drink in realtà è semplicissimo È un fat washing con l'olio di cocco nel room Quindi un room cubano aromatizzato al cocco in fat washing Fat washing è una tecnica che serve per aromatizzare liquidi alcolici e non alcolici A partire da dei grassi Facendo in modo che il liquido di partenza prenda il sapore ma non la consistenza grassa Esattamente E invece la parte dell'ananas la diamo con una soda all'ananas che facciamo noi Ok E l'alpestre lo usiamo per dare un po' di freschezza di erbe al drink Ma guarda, tra l'altro questa cosa ci sta molto Perché l'ho detto in un altro video e tutti mi hanno chiesto Ma cos'è questo twist, cos'è questo twist C'è un variante della Pignacolada Che si chiama Bahia di Trader Vic Uno dei due grandi padri del Tiki Il padre del Tiki, il fondatore Don De Biccomber Poi abbiamo Trader Vic che dà quella origine un po' a quella che la seconda era Tiki Quindi bevute un pochino più facili Ma ha questa versione della Pignacolada Che di fatto è una Pignacolada dove va a blendare del Ron cubano Con del rum bianco giamaicano overproof Il rum bianco giamaicano overproof fa tantissima fermentazione Distillazione in double retort Tutto questo gran casino Comunque sono rum molto erbacei, molto potenti E va a dare questa nota di freschezza Tu conoscevi il Bahia? L'avevo visto forse in qualche tuo video Non ho mai fatto un video sul Bahia Ti volevo dire di no Perché ti avrei detto bravissimo Che hai messo un po' di alpestre per dare questa nota erbacea Mangia la foglia Comunque, allora So che hai bisogno di un tamber alto Incredibile, era già lì Era già lì Allora qui abbiamo ghiaccio Qui hai tutto quello che ti serve Esattamente E quindi vai pure Io mi metto alle spalle Tu prepara pure il drink Benissimo E intanto ti chiedo Ma come sta andando? Vende, non vende? Piace, non piace? Anche qui devi dire che vende e piace Vende parecchio Vende parecchio Non è una bugia E infatti facciamo quasi fatica a stare dietro ai preparati Però comunque è tutta roba semplice Quindi ci sta Ed è pensato apposta per qualsiasi ragazzo che si trova al banco Sia per l'esecuzione facile del drink Sia per... Guarda che barbec bravo che sono Guarda Non hai mai avuto uno Di solito sono io quello che pulisce Quindi anche come semplicità per i preparati on-made Per chiunque si trovi al banco in quel momento Perché una cosa ragazzi che nel master Il master chiaramente tratta aspetti anche molto tecnici Anche tutta quella che è la parte sulla sicurezza alimentare Ma c'è un argomento Una cosa che viene ripetuta allo sfinimento Che non andate a fare preparazioni on-made O non andate a fare quelle preparazioni on-made Che poi non siete in grado di gestire Quindi se lavorate in un locale Io faccio sempre questo esempio Non so se te lo ricordo Lavorate in un locale Che fa fuori 300 lattine di ginger beer a sera Non vi mettete a fare la ginger beer on-made A meno che non abbiate una struttura per poterla reggere Assolutamente Perché altrimenti non ci si sta dietro Sì e con questo drink comunque il concetto è rispettato a pieno Perché i due preparati E che poi il terzo sarebbe la chips Che mettiamo di decorazione Sono tutti semplicissimi E può farli chiunque L'abbiamo spiegato anche ai ragazzi che fanno il turno del mattino E spesso ce li preparano loro E roba proprio a prova In una schiavizzazione Ma niente Vabbè c'è sempre quella guerra Il barista la sera si prende i ringraziamenti E per la mattina in realtà è quello che lavora Il lavoro dietro esatto Buono però Sì sì è super Non è Malibu Non è Malibu Ok Giuro 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 lo giuro Tra l'altro Mirko Che lavora con Cocktail Engineering Che mi ha aiutato anche a sviluppare Quello che è stato parte del master Homemade Lui è stato mio bar manager per diversi anni E adesso siccome ha qualche problema legato a fisico Ha dei problemi all'ernia E così fa fatica a lavorare la sera al bar Si è fatto spostare nel turno diurno E fa le preparazioni Ah è vero Perfetto Perfetto Potrebbe essere un futuro per chi non regge più la sera Lo so Perché lui era un calciatore professionista Li sono esplose due o tre verte Perché non può più sollevare praticamente pesi Fusti di birra Esatto Non può più sollevare fusti di birra Tutte quelle cose lì E quindi siamo messi così Niente il drink è finito E poi ci va la decorazione Ci va la decorazione Che è una chips d'ananas Che facciamo con gli scarti Della soda Della soda esattamente E Dalla direttamente a me che la mangio Esatto Andrebbe sopra Esatto E poi glassiamo alla fine Facciamo di cocco Sì perché il cocco che poi usiamo per il fat washing Invece di cacciarlo via Lo facciamo di nuovo a sciogliere E ci glassiamo Tra virgolette Se si può dire così La chips È una porcata A me la gente ti compra più questo C'è il drink Per questo Perché non la mangio Anche io che voglio di mangiarmela Buona Veramente buona Sì magari rimane un po' meno croccante Perché poi la devi glassare col cocco La devi stoccare in frigo Quindi prende un po' di umidità Però ecco il drink va Quindi va in pochi giorni Riusciamo a farli andare tutte Dai siamo lontani dai giorni In cui si faceva la pignacolada Con dentro una paletta di gelato al cocco E cose vanno Perché anche questo Ho dovuto fare nella mia vita E ne vado anche molto fiero È buono davvero È buono davvero Oh bene Perché gli ho detto prima Ho detto prima Emanuele sappi che anche se fa schifo Dirò che è buono No in realtà è buono davvero Quindi complimenti Sono contento Grazie Quindi adesso Momento tuo Facchetta Fate un made pro Fate un made pro Perché vi cambia la vita Perché vi cambia la vita Ho imparato un sacco di cose fighe E venite a bere anche al bar A Chiavari Teneria 108 Come? Teleria 108 Teneria 108 Teneria 108 a Chiavari Che sta tra Genova e la Spezia Ma più vicino a Genova Provincia di Genova Provincia di Genova Provincia di Genova Tengo a riparirlo Ok Va bene ragazzi Grazie mille Grazie per essere stati qua Grazie Giovanni E poi in descrizione L'articolo Tu ricordi di mandarmi Le dosi Per fare il rum al cocco Per fare la soda Così poi ne mettiamo E se qualcuno volesse replicare il drink Ricordatevi di inserirlo Con il nome di Guantanamera E non appropriatele Indebitamente No scherzo Usate questo drink Fatelo Raccontate Dite anche che Chiaramente È un drink Potete anche non dirlo Sono contento solo se lo usate Ok Il prossimo Di nuovo Dick Bratz Il piazzi 4 drink In lista IBA E nessuno sa chi sei Eh vabbè Non lo si fa per la fama Non lo si fa per la fama Va bene Ciao ragazzi Grazie mille Grazie Grazie